Mi sembra troppo basso. Muori sveglio caro Dario, noi siamo la Cp2. Pensi davvero che le tue modifiche ci spaventano? Dario, è già stato tutto deciso e calcolato. Il timer è nelle nostre mani e salirà alle stelle. Speriamo che la chat colpa pure con noi supportando con le sub e le donazioni perché abbiamo usato qualche sorpresa anche per voi. Ora abbiamo ampliato la nostra organizzazione quindi non fare scherzi Dario. Un pacco misterioso è già in viaggio. Noi siamo pronti, preparati alla minaccia viola.